Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Apriamo con l'A1 dove a causa di un incidente che ha coinvolto due mezzi pesanti all'altezza del chilometro 326 si sono formati 10 chilometri di coda tra Arezzo e Incisa Reggello in direzione Bologna. In direzione Bologna ci sono anche 4 chilometri di coda tra Calenzano e Barberino per un veicolo in avaria e code a tratti per traffico intenso tra Chiusi e Monte San Savino. Sulla Fipilì un chilometro di coda tra Montelupo e Ginestra in direzione Firenze. Su raccordo autostradale Siena-Firenze rallentamenti in entrambe le direzioni tra Badesse e Siena Nord per lavori. La statale 223 di Paganico è chiusa per un chilometro e mezzo in direzione Grosseto all'altezza di Campagnatico per uno smottamento. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e comune di Firenze. vi auguriamo un buon viaggio.